Una prima grande occasione di confronto sul tema sanità dopo il Covid-19 e così ad Arezzo è tornato il Forum Risk Management. L'evento infatti è tornato dove tutto è nato e lo ha fatto rigorosamente online, come tutti gli eventi al tempo della pandemia, ma con una regia composta da una quarantina di coordinatori in diretta dal quartier generale dell'Arezzo Fiere Congressi. Arezzo si pone quindi in questo momento, grazie a questo convegno, come luogo privilegiato di indicazioni e di riflessioni. Un format dunque totalmente innovativo e aderente alle disposizioni del Comitato Tecnico Scientifico. È stata un'occasione per innovare anche il Forum, usando le migliori tecnologie, cercando di operare con la simulazione, ma ovviamente la nostra volontà è quello, appena il vaccino sconfiggerà il Covid-19, di tornare qui ad Arezzo, in questo magnifico scenario, di nuovo in presenza con migliaia e migliaia di operatori. In rete 850 relatori, migliaia di iscritti e decine di convegni online, che proseguiranno per quattro giorni sino al gran finale di venerdì. È un evento straordinario perché consente il confronto tra persone professionisti addette ai lavori e dal confronto si possono ricavare nuove strategie per il futuro. Nell'edizione di quest'anno, inevitabilmente, un grande spazio è stato dedicato agli effetti del Covid-19 sul mondo della sanità e a come riorganizzarsi. L'obiettivo che ha l'Italia oggi di fronte è innovare il sistema sanitario, riformare il sistema sanitario. Come diciamo in questo Forum, ci vuole un nuovo rinascimento tecnologico e un nuovo umanesimo della sanità.